ne prendo un po' e adesso vado sulle tempie c'è l'acqua c'è l'acqua Ciao, ciao, grazie di essere qui, 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 con me oggi, oggi sarà uno di quei video in cui io sono qui nella speranza, nella pura speranza di riuscire a darti un po' di sollievo, di riuscire a tirarti sul morale, di riuscire a farti stare meglio, questo è il mio solo e unico obiettivo, io spero davvero che le mie parole, ma anche proprio le mie intenzioni, riescano a entrare un pochino in te, a farti appunto stare meglio, o comunque a raggiungere uno stato un po' più di pace. Quando faccio questi video è perché anche io mi sento triste, o stressata, o con il corpo pesante, insomma, e ci tengo veramente tanto a provare a farti passare questa sensazione, se anche tu ti senti così. Io oggi in realtà sto benissimo, ed è essenziale appunto per me, perché magari posso a trasmetterti un pochino di questa gioia interiore, di questa serenità. Oggi qui è un tempo, c'è un tempo solezzato, c'è il primo vero caldo, caldo, caldo dell'anno, il cielo è azzurrissimo e gli uccelli cinquettano fuori. E' sabato, quindi sono andata un pochino più tranquilla. Io sono molto serena, quindi spero in grado di rastrenarti. Prima di tutto ti chiedo di farmi due bei respiri per calmarti un attimo e per alleggeri un pochino il peso delle emozioni che stai provando. E io comincerei subito 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 con l'attività più importante di oggi, che è scrivere cose che ci rendono felici e per cui siamo grati. Prima però di farlo voglio farti immaginare in questa sensazione di gratitudine e serenità con un palm. Se hai già visto il video in cui cerco di affrontare con te lo stress, avrai notato che avevo un palm simile. Questo si chiama happiness palm ed è un balsamo energizzante. E questo qui ha la confezione verde che sembra tantissimo il suo odore. Adesso te lo descrivo e poi te lo applico, intanto non sapore, ha un odore balsamico, sicuramente c'è dell'eucalipto. Ha un odore che ti entra tanto tanto dentro. E questo palm serve per ritrovare un'eggia positiva e gratitudine. Serve per, manusandolo, provare a ricentrarci. Quindi, quindi, vai prendo un po', un po'. È olioso, pieno, pieno, pieno di oli essenziali. Mi ricorda tantissimo, proprio, è stato tantissimo di natura, un aroma intensissimo di natura, quasi di bosco balsamico. Mi ricorda molto questo. E te lo andrò ad applicare su tempie. Qui, dietro le orecchie, sui polsi e dietro la testa. E vorrei che questo aroma, appunto, ci accompagnasse per un po' tutto il video, ok? Quindi te lo applico ora, apposta. Lo scanto un po' un po' tra le mani. E prima ti chiedo di chiudere gli occhi. E annusare. Prendi un forte, forte respiro. Senti come ti entro dentro. Di nuovo. Ok. E adesso vado sulle tempie. Allora, Allora. Tu si lascia? Senti. Vado a disposere le orecchie. Sentivo un façano. ok dietro la testa sul collo vieni qui ok qui dietro, qui dietro alla base del collo dammi i polsi uno e e già dovrei sentirti un pochino meglio adesso di nuovo chiudi gli occhi annusa di nuovo e questo aroma ci accompagnerà dai anche un pochino di sollievo e adesso io partirei subito 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 con appunto lo scrivere le cose di cui siamo grati e le cose che ci rendono felici ti faccio scegliere un colore con cui scrivere queste cose posso avere il rosa, l'arancione o il verde direi che ho anche il blu si ho anche l'azzurro e un verde un po' più scherciante oppure ho anche il giallo e il rosso se vuoi ti va il giallo? ok io associo tantissimo il colore del giallo alla felicità, alla serenità e mi piace tantissimo anche indossarlo ti chiedo se vuoi scriverli te o se me li vuoi dire e li scrivo io ok va bene li scrivo io ho preso anche il guaternino giallo ok dimmi pure ci puoi anche pensare un attimo ovviamente partiamo direi allora di chi come piace proprio essere grato anche per cose semplicissime quando faccio yoga la nostra insegnante ci chiede sempre di darci un'intenzione e di essere grato ad esempio al nostro corpo che ci permette di fare certe posizioni ma anche il nostro corpo è perfetto che a volte riesce a fare certe posizioni a volte no a volte cadiamo a volte riesce a stare in equilibrio ma fa parte del nostro corpo quindi insomma cose veramente molto molto semplici ok 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 e se vuoi anche un terzo ok e adesso se vuoi dimmi anche due cose che due attività che ti rendono felici ti faccio un esempio a me rende tanto tanto felice fare il mio sport una testa in gioco o mi rende tanto felice giocare con il mio cane e mangiare il bastone e vederla così emozionata anche solo per un bastone o mi piace cucinare il mio piatto preferito mi piace mangiare il mio piatto preferito mi piace leggere mi piace leggere tutte le coperte sul mio divano ok 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 ore and perfetto direi visto che sono usa abbastanza fluid adesso io ti chiedo di di tenere questa sensazione di gratitudine con te e di sentirlo un ottimo crescere, quindi ad esempio a me la gratitudine la sento proprio a livello corporeo, sul cuore, alcune persone la sentono in mezzo al petto, alcune persone la sentono nella panza, la puoi sentire veramente, ogni persona la sente in posti diversi del corpo, però senti appunto questa sensazione di gratitudine espandersi, prova a sentire dove la senti e prova a concentrarti su questa sensazione e cercare di espanderla pian piano, quindi continua a ricordare queste cose per cui sei grato, grata, e senti questa sensazione espandersi, 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 se vai appoggio la mano su questa parte del corpo in cui senti la gratitudine espandersi e godi di questa sensazione di abbondanza, di gratitudine, e ce l'ha stretta, stretta con te. Questa è la parte più importante del video e spero davvero che abbia aggiunto, diciamo, tu abbia aggiunto questa sensazione, adesso però ti ho portato anche qualcosina, tanto ho pensato di offrirti qualcosa da bere, che tu lo volessi anche dopo. Ho sceglito per te questa tisana, che penso si possa fare anche fredda. Si chiama Happy Montes e contiene limone, zenzero e pepia nero, infuso, bio, e ci sono venti bustine. L'ho preso ieri e ho pensato potreste fare di piacere, perché appunto è anche una tisana pensata per partire con carica ed energia per una nuova giornata. La apro e ti faccio vedere una bustina. Si sente tanto l'odore di zenzero. Quindi appunto un po' piccantina questa tisana fatta apposta per svegliarci, per darci quel piccante per cominciare la giornata. È fatta così la bustina, ha sopra dei limoni, delle farfalline e delle voglie. ho aperto anche la bustina. Ho aperto anche la bustina. E dentro è fatta così. Se non la vuoi non ti preoccupare, l'acqua assumerò io oggi. e ultima cosa che ho aperto è due tavoletti di cioccolato, perché si sa, il cioccolato ovviamente di qua rumore. Ne ho due. Questa un po' più classica. e ora e questa ha un gusto vellutato con note spezzatella vaniglia non è per nulla amara anche se ha cacao al 71% comunque fondente ma non è per nulla amara oppure per te qualcosa di un pochino più particolare ho per te questa tavoletta di cioccolato nozzola e lamponi guarda che meraviglia si vede già l'interno con dentro nozzola e caramellate i lamponi comunque questa fondente al 70% ti dico non l'ho mai provata mi sembrava molto bella e ho pensato di proporre quale vorreste assaggiare proviamo questa ok allora si apre da qui no ma che strano ma che strano metà così e metà così per mostrare il prodotto carina non non ma che strano che carina l'usa la bellina ok e te ne prendo un pezzo con tante nozzole e tanti ramponi ok troppo per te rispetto vuoi questo? capi piccolino e tieni pure per te per te per te anche io assaggio un pezzettino dai com'è? molto 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 particolare il sapore dei lamponi è un po' non so come dire avrei preferito un pochino più naturale il sapore dei lamponi però bellissimo contrasto è comunque molto buono diciamo che più che i lamponi sono un po' di più caramelle i lamponi i pezzettini non sono molto buone il contrasto comunque è molto buono si sente molto bene fare un po' di tracing bene 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 spero davvero che questo video ti sia stato d'aiuto spero che tu davvero riesca a sentirti meglio qualunque sia la fonte della tua tristezza a volte capitano semplicemente cose che non vorremmo mai capitassero o a volte le cose non vanno come pensavamo sarebbero andate o a volte semplicemente ci parte una tristezza da confronto da non sono abbastanza da con l'altra persona ma va questo e questo qualunque sia la fonte dell'altra tristezza spero di averti dato un po' di sollievo spero di averti dato un po' di sollievo spero di averti dal profondo del cuore e dimmi anche se è un po' funzionato e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio proprio e si è giunto all'ora di averti dato un po' di sollievo augurare a te 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 una buona buona notte buona buona notte a te a te a te good night good night sweet dreams good night good night for me let me show your head good night good night good night good night buonanotte i piccoli pasticcini al pistacchio, anzi, le nuzzarabboni un bacione e gli spero 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 Grazie.